Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa nuova video recensione con le applicazioni consigliate a Marcosbox per i vostri device Android. Quest'oggi voglio parlare di un'applicazione chiamata Salva Una Vita, un'applicazione realizzata dal Ministero della Salute in collaborazione con diversi società italiane di medicina, medicina d'urgenza, urgenza pediatrica e altre che potete leggere qui, anche la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, che consente di avere un vademecum con le indicazioni su cosa fare quando c'è un'emergenza sanitaria, dando appunto dei rapidi consigli su cosa è giusto fare e cosa non fare, praticamente è un'app che ti spiega il primo pronto soccorso che è in caso appunto di problema sanitario o di incidente. Quest'app è davvero utile e a mio avviso dovrebbe essere installata su ogni device Android e dovrebbe essere metabolizzata perché queste cose si sa, facciamole qua, non dovessero mai accadere, però è bene comunque sapere prima queste cose per poterle poi applicare nel momento del bisogno. Quindi datevi magari una profondita lettura a questa applicazione, questi consigli che vengono dati in modo da essere pronti in caso di problemi. Andiamo a vedere l'applicazione come si presenta. Nella schermata principale come potete vedere abbiamo due categorie, adulti e bambini. A seconda delle categorie abbiamo diversi casi di intervento, ad esempio per gli adulti abbiamo una cosa comune come l'arresto cardiaco. Cliccando su arresto cardiaco ci vengono date informazioni su che cos'è un arresto cardiaco e abbiamo poi due pulsanti, cosa fare e cosa non fare. Premendo su cosa fare c'è il valevacum, che cosa fare in caso di arresto cardiaco. Ovviamente il 118. Viene spiegata come effettuare una rianimazione cardiopulmonare. Per alcuni tipi di interventi, per meglio aiutare le persone, sono stati inseriti dei video che spiegano che cosa fare, la posizione da assumere per poter fare la manovra cardiaca e altre informazioni che sono utili per questo tipo di emergenze. Qui comunque potete vedere che cosa fare, addirittura viene spiegato il defibrillatore, come viene utilizzato. Cliccando invece su cosa non fare ci sono invece le cose da non fare assolutamente in caso di questo tipo di problemi. Come vi avevo detto prima ci sono anche casi per esempio per i bambini, ad esempio andiamo a vedere una cosa tipo, vediamo un po' qualche cosa che potrebbe andare. Ecco qua, soffocamento. In caso di soffocamento, come potete vedere qui viene addirittura, ci sono delle vignette che illustrano come eseguire la manovra, come farla, e ovviamente in questo caso il video che spiega come fare la manovra di... scusate l'ho chiusa. Così via appunto per i vari tipi di problematiche e interventi sanitari. Potete vedere sono tanti e sono spiegati tutti in modo dettagliato. C'è anche il campo di ricerca, se voi per esempio volete cercare senza utilizzare icone. Cliccando nel menu a sinistra è possibile cliccando su pronto soccorso andare nella schermata principale. In videogallery abbiamo il riassunto dei video che sono presenti all'interno dell'applicazione. Quiz. Qui un piccolo quiz che serve a mettere alla prova la nostra preparazione rispondendo alle domande. Ecco perché vi dicevo questa non è da utilizzare al momento questa applicazione, ma da utilizzare prima, da conoscere prima come fare e come non fare. Cliccando sul numero di utili abbiamo le emergenze sanitarie, poi tappando sopra possono partire chiamate e poi credits con tutte quante le informazioni sull'applicazione. secondo me è un'applicazione da tenere in considerazione, da installare, perché facciamo le cose, ribadisco sempre. Meglio sapere determinate cose perché possono rivelarsi dei salvavite, per esempio come la manovra in caso di soffocamento, che è una cosa che salva tantissime vite se la sapete fare. perché appunto sono cose che meglio sapere prima che poi. Bene, con questo è concluso, vi saluto e vi rimando alle prossime video recensioni sperando di farne a breve delle altre. Lunga vita e prosperità a tutti quanti, bye bye.